ciao ragazzi e ciao ragazzi bentornati sul canale oggi consueto appuntamento con il catalogo di campagna 6 di Avon dedicato all'estate andiamo subito a sfogliare il catalogo insieme per vedere che cosa c'è dentro dunque per ogni acquisto da questo catalogo si può avere l'orologio a 1499 carino e ha il cinturino di silicone e poi una pochette con tutti questi prodotti mini size con 1199 allora abbiamo l'acqua micellare poi una nspf 50 da penso 30 ml poi abbiamo mascara un profumo piccolino qualche campioncino e andiamo avanti dunque vediamo qui nuova linea sensis marine ha pure il bubble bath nuovo interessante vediamo un po vediamo se si sente no non si sente perché ho appena messo la crema sulle mani e quindi si confonde l'odore comunque abbiamo questi prodotti scontati il bubble bath da un litro a 499 poi abbiamo sempre bubble bath da un litro con l'acquisto di uno a 6 euro il secondo a 3 euro molto interessante anche questa qui come offerta però non vedo bubble bath nuovi tranne quello lì diciamo in prima pagina poi abbiamo due acque profumate a 4 euro e 90 queste sono buone quelle che ho provato io anni fa erano buone diciamo quella che si sentiva un po di più e che durava di più sul corpo era quella alla vaniglia e legno di sandalo è veramente buona però sono degli spray alla fine sono sfiziosi da usare tutti i giorni per chi non vuole un profumo troppo forte sul corpo sì ve li consiglio tutta la linea alla vitamina c hanno lanciato il tonico alla vitamina c e acido glicolico poi la maschera esfoliante termoattiva questa c'era tanti anni fa ma era diversa nel senso che aveva ovviamente il pack diverso ed è una maschera si è rimasta sempre la stessa che praticamente è una crema che va spalmata sul viso umido e mentre la spalmata diventa bollente quindi dovrebbe andare a pulire i pori in profondità se la dovessi prendere vi farò sapere poi abbiamo il siero la vitamina c con il 10% di vitamina c io l'ho provato ma sulla mia pelle risulta un po appiccicoso magari lo consiglio per le persone che hanno un 30 30 dai 30 anni in su via che hanno una pelle diciamo da normale a secca e ve lo consiglio poi le capsule invece sono buone le ho provate le ho fatte vedere sulla skin care tutta avon mi piacciono e qua il kit a 25 99 con il siero il contorno occhi duo questo contorno occhi è meraviglioso buonissimo ve ne ho parlato in passato poi abbiamo gli smalti gel shine a 2 99 il top coat a 4 99 poi abbiamo le perle solari e il pennello a 14 99 oppure li potete prendere anche sfusi eh uh questo è nuovo celeb fresh vediamo un po' no sta crema mani mannaggia a me quando me la metto prima del video comunque sembra un floreale bianco abbastanza fresco sì a primo acchitto per quello che riesco a sentire mi piace sì non so la durata queste sono delle acque spray che sono uscite qualche catalogo fa o forse in questo catalogo proprio poi abbiamo il set soft mask a 13 99 con l'eau de toilette da 50 ml deo roll on e deodorante spray per il corpo questo è un profumo meraviglioso ve ne ho parlato sul mio primo video sui profumi avon vi lascio il link sotto nell'info box o il secondo non mi ricordo comunque vi lascio direttamente tutti due i video dei profumi avon qui abbiamo pigiami diciamo giacche da notte linea footworks la lima per i piedi a 3 euro e 50 per ogni prodotto acquistato da 23 a 27 quindi da qui abbiamo tutti i prodotti per i piedi le lime gli spray questi dovrebbero profumare tipo di mentolo ne ho provato uno anni fa non so se la profumazione è rimasta la stessa poi abbiamo qui creme per talloni creme idratante maxi formato i calzini ve ne ho parlato sui prodotti terminati gli ultimi prodotti terminati e su di me non hanno avuto alcun effetto poi solari e dopo sole e auto abbronzanti i solari ve li consiglio tutti perché sono molto buoni sono nel senso non vi scottate non ho mai avuto problemi e i dopo sole sono anche più buoni abbiamo tutte le protezioni protezioni per i bambini abbiamo un prodotto dunque vediamo qui che dice con l'acquisto di un prodotto il secondo a 3,99 su questa pagina poi abbiamo gli oli secchi non mi piacciono la linea per levilazione mai provata fatemi sapere voi se l'avete provata com'è linea avant care buona delle creme molto semplici dei prodotti molto semplici senza troppi fronzoli che fanno bene il loro lavoro quindi si ve li consiglio qui ho usato queste due mi sono piaciute entrambe questa ancora non l'ho presa ma credo che non la prenderò e qui abbiamo un prodotto a 5,50 il secondo a 3,50 per entrambe le pagine anche questa l'ho usata buona poi le creme mani vabbè ormai sono diventati un must questa è la classica alla glicerina con il profumo di gelsomino e questa è la mia preferita che sarebbe la classica la glicerina con il profumo classico questa la sto usando in questo periodo gli tratta bene ma un po' meno rispetto a questa e a questa qui abbiamo anche i gel igienizzanti per le mani formato famiglia e piccolino da borsetta linea incanto io scusatemi vi devo ancora girare il video sui profumi avon ma ho ripreso a lavorare devo recuperare praticamente un mese e mezzo che siamo stati chiusi quindi proprio esco la mattina alle 6 e mezza da casa e rientro data da orario da definire quindi poi abbiamo la linea planet spa 3 prodotti a 16,50 i deodoranti roll on molto efficaci perché contengono sali di alluminio quindi se non state attenti all'inci io ve li consiglio li uso da tantissimi anni sono molto affidabili e performanti 2 a 5 euro 3 a 6 euro quindi buono anche il prezzo alla fine diciamo li pagate come anzi forse meno anche di quelli da supermercato ecco poi linea per bambini questi sono i classici prodotti e questi qui invece girano in base alle collezioni dell'anno del momento linea sensis vi devo fare anche il video sui bagno schiuma sensis ne ho parecchi ma sono diciamo nelle profumazioni non ne ho tantissime magari ho 4 5 pack di un tipo quindi magari anche ve li farò vedere nel prossimo video comunque prima o poi ve li farò vedere qui due prodotti a scelta 5 euro a pagina 49 quindi sono i lavamani saponi liquidi poi linea advanced techniques questo dicono sia il nuovo siero non l'ho provato se trovo in outlet questo qui mi riprendo questo così vado sul sicuro perché alcune persone mi hanno detto che non sono proprio identici come formulazione questi dovrebbero essere un pochino più unti ecco quindi non mi fido nel senso che magari prendo un prodotto che non va bene sui miei capelli e poi me ne vento quindi no poi i prodotti tutti e tre a 10 50 belle offerte questo catalogo comunque io vi ripeto dell'advance techniques compro poco e niente perché sono prodotti diciamo indicati per capelli fragili secchi quindi sui miei capelli risultano tutti un po' troppo nutrienti quindi no cioè su di me poi ovviamente se avete i capelli diversi dai miei provateli e fatemi sapere spazzole poi abbiamo qui la linea naturals 700 ml che vi durano 12 anni gli shampoo le maschere della avon naturals sono buonissime ne ho provato una ai mirti no ai lamponi buonissime ovviamente indicate per capelli secchi perché hanno un'azione lisciante veramente buonissima cioè veramente forte ecco poi far away glamour due pezzi a 26 e 90 è un orientale floreale anche questo è un orientale floreale anche questa è un orientale floreale il mio preferito è questo qui classico proprio un must uno dei profumi più venduti avon pure today è veramente buonissimo questo se amate i profumi che sanno di fiori bianchi fuori dagli schemi è veramente un profumo di tutto rispetto un bel profumone questo veramente consigliato molto femminile sensuale ma anche elegante buonissimo questi sono i nuovi profumi che avon lancia in questa campagna non li ho provati se li proverò vi farò sapere fatemi sapere voi se li avete provati e come sono alla violetta alla rosa poi che altre fragranze ci sono e all'illa fatemi sapere queste sono le fragranze ispirate alle località di vacanza italiane poi abbiamo il persaive con il deodorante a 1599 anche questo è un bel profumone eh lo trovate sempre nei profumi avon che vi lascio nel nell'info box se siete curiosi andate a dare un'occhiata il sunry island dovrebbe essere un agrumato vediamo un po' sì un agrumato floreale come tanti altri profumi vi devo fare anche il video su questi sempre per lo stesso motivo ancora non ci sono riuscito ma ve ne parlerò rare gold buonissimo un profumo floreale orientale alla tuberosa la tuberosa un profumo un fiore molto tra virgolette prepotente quindi si fa sentire veramente buono 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 rare amethyst anche floreale questi ho preso i campioni ma erano finiti quindi non vi so dire avonlac buono poi mesmerais mystic amber questi sono sempre profumi questo è in collaborazione con kenzo takata questi qui non li conosco perché sono tutti nuovi dovrei aver preso i campioncini e vi devo fare sempre il video linea ivy mi sembra che ne abbiano tolto uno o due spray profumati per il corpo due a scelta 6 euro poi abbiamo qui i profumi da 10 ml perfetti per chi vuole provare dei profumi insomma se non li conoscete vi consiglio di buttarvi su quelli perché la quantità è poca e se non dovesse piacervi comunque ci mettete poco a finirli ecco e non avete speso un capitale due doranti da uomo gel doccia da uomo poi abbiamo elite gentleman weekend questo l'ho trovato e anche questo li ho trovati a varsavia c'è dove c'è il negozio in un centro commerciale proprio il negozio di avon quando sono entrato là c'ho avuto tipo non lo so un mancamento ci sono stato forse due ore e mezza là dentro a quel negozio infatti il proprietario mi guardava come di ma questo non se ne va e c'erano questi due profumi che anche che erano anche nel catalogo avon di 4 5 anni fa quindi li hanno riproposti io mi chiedo perché togliere i profumi e poi riproporli non li toglieva niente no vediamo questo non me lo ricordo buono orientale legnoso mentre questo un po' più leggero e agrumato si ma mi sa che io ho ancora i campioni di questi ne avevo presi talmente tanti che nella busta dei campioni avon ce li dovrei avere ancora diciamo i profumi che avevo preso anni fa mesmerize black buonissimo buono 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 la linea full speed non mi piace poi abbiamo il lac che lo sto utilizzando in questo periodo e mi piace all'inizio non mi piaceva però diceva devo dire che utilizzandolo in continuazione mi sta piacendo sì anche una discreta persistenza sì uno dei miei profumi preferiti avon è l'attraction da uomo una bomba colossale è un orientale legnoso speziato dolce con delle note di fondo di zucchero meraviglioso linea mask mi piace solo il vulcain che mi sa che hanno tolto o no sì il man anche un classico profumo da uomo buono poi qui abbiamo i bijoux spero che riusciate a vedere bene tutto bijoux bijoux borsette occhiali da sole abbigliamento intimo vedete qua bene se riuscite a vedere le taglie e le misure intimo vedete qui le taglie magari vi sposto un attimino così così vedete bene dicono che molte di queste cose della cotonella non siano disponibili io non lo so perché ovviamente non prendo l'intimo femminile mi pare ovvio anche se insomma voglio dire bellissimi ciondolini con i segni zodiacali veramente carini due bracciali a 9,90 sono componibili quindi in base al vostro segno o al segno della persona a cui dovete regalare il bracciale mettete scegliete insomma il codice promozioni offerte imperdibili costumi intimo accessori casa questi sono spaziali questi sono veramente belli se li trovo in outlet tra qualche tempo questi non mi scappano c'è un verde petrolio bellissimo allora io ho preso anni fa degli asciugamani di Avon a parte vabbè che sbagliarono a mandarmi l'articolo e ovviamente li ho ottenuti perché per rimandare indietro le cose insomma è una procedura un po' lunga devo dire che sì durano nel tempo non perdono pelucchi mi piacciono e calcolate che ho anche l'asciugatrice quindi l'asciugatrice i capi di spugna te li devasta e quelli sembra che ancora reggono questi sono lenzuola per bambini organizer qui abbiamo la tovaglia carina poi diciamo accessori per la casa contenitori poi abbiamo fragranze per ambiente non le conosco no non si capisce niente diffusore di fragranza no luce relax zaini per bambini protezioni solari con un prodotto a prezzo scontato avete il secondo a 7,99 io ho utilizzato l'anno scorso questa qui e poi ho regalato a Carlita perché l'avevo usata forse due volte tre volte boh non lo so e mi piace perché non è non è insomma pesante come crema quindi si assorbe velocemente anche se è comunque una crema con filtro solare sono sempre un po' più ricche rispetto alle creme normali qui abbiamo la linea ultimate 50 più 60 più questi sono i prodotti quelli nuovi che sono usciti tre prodotti a 36,99 io ho utilizzato tutte e due ma questa non mi piace perché rimane appiccicosa sulla mia pelle quindi no se avete una pelle normale secca ve la consiglio ma che ha una pelle mista e grassa assolutamente no invece questa si assorbe in maniera molto più veloce ha un buonissimo profumo questa è veramente buona prima o poi mi devo decidere a usarla qui abbiamo i mini kit carini comodi anche questi per provare i prodotti magari per chi si avvicina al mondo Avon e vuole provare i prodotti ha l'opportunità di prendere questi prodotti a un prezzo bassissimo io penso che qui mi riprendo la reversa list da notte a 3,90 quindi anche buono sì insomma da portare in vacanza per provare i prodotti per chi ancora non conosce bene come sono come reagiscono sulla propria pelle insomma sì bella idea i mini kit mi piacciono sempre linea Nutra FX qui abbiamo la crema da giorno e il gel da notte nuovi prodotti della linea Avon True FX per pelle acneiche linea Clear Skin poi detergente maschera strappo è questa qui questa è la maschera purificante vi voglio fare anche un video sulla maschera ai minerali neri è buonissima è una delle mie preferite anzi no è la mia preferita uh prodotti nuovi uh prodotti nuovi detergente sfogliante maschera in foglio qui è fatta in tre fasi deterge sfoglia e applica la maschera mi ricordano un po' i prodotti di Faberlic questi sono i patch invece in idrogel per gli occhi 30 euro 60 dischetti quindi per 30 applicazioni dai ci stanno linea Mission linea per pelli per persone in meno pausa linea Distillery trucchi Distillery linea Enew tutti i prodotti Enew di trucco hanno comunque un SPF all'interno mi sembra 15 se non sbaglio poi altri trucchi trucchi trucchissimi pennelli pegaciglia pinzette fenomenali dico sempre che me le riprendo e tutte le volte che faccio l'ordine me le scordo però sono buonissime smalti matt top coat due a scelta 4,90 qui sono gli smalti ad asciugatura rapida trucchi tinte labbra rossetti tinte labbra Giorgia Palmas ciao Gio ti apposto linea Mark palette per il contouring pennelli qui che è questo è un illuminante correttore poi abbiamo le gocce illuminanti queste qui la cipria trasparente per settare il trucco io questa prima o poi me la prendo perché voglio vedere se riesco a tenere a bada l'effetto unto sulla mia pelle magari quando esco no che sto fuori tutto il giorno mascara eyeliner mascara sopracciglia prodotti sopracciglia fondotinta vedete bene i codici eyeliner cioè matite occhi il secondo pezzo a 2,99 rossetti satinati o scintillanti il secondo pezzo a 3,99 qui abbiamo che cosa matita contorno labbra 4,99 il secondo pezzo a 2,99 e avete insieme a questi a ogni prodotto ordinato un campioncino di faraway rebel e diva fondotinta cremoso fierenitura in polvere a porvere il secondo pezzo a 6,99 linea color trend cipria fondotinta correttore prodotti color trend prodotti color trend prodotti color trend 2 gloss a 4,90 rossetto cremoso color trend 2 scelta a 4,90 rossetti matt 2 scelta a 4,90 e rossetti color trend ok ragazzi questo è tutto ci vediamo nel prossimo video vi mando un abbraccio ciao 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 ciao